La tabella di marcia è serrata. Spendere rendi contare entro fine del 2013 11 milioni di euro per non incorrere in una decurtazione di fondi. E a ben vedere i comuni di Cosenza e Rende sembrano essere sulla buona strada. I progetti inseriti nell'ambito dei fondi Pisu sono a buon punto. A Rende si sta realizzando un grande parco urbano acquatico, i lavori preliminari sono già iniziati e tra qualche giorno si inaugurerà il cantiere. Lavori al primo step anche a Cosenza per il restyling di Piazza Bilotti e la realizzazione delle botteghe degli artisti. L'aerobano a Cosenza rende grandi opere, arrende un parco acquatico a Cosenza, a Piazza Bilotti con altri interventi. A che punto siamo? Sì, abbiamo fatto il punto della situazione per vedere se c'erano delle criticità, soprattutto per fare in modo che entro fine anno si raggiungano i target di spesa per evitare disimpegni. E quindi lei capisce bene che una regione come la nostra non può permettersi il lusso di perdere risorse. Quindi abbiamo fatto il punto della situazione, diciamo che siamo moderatamente soddisfatti perché dovremmo raggiungere i nostri obiettivi con la collaborazione dei comuni. Noi forniamo questo supporto tecnico così come stiamo facendo nelle altre aree e devo dire che abbiamo trovato un quadro interessante. Non fosse altro perché il fatto che è tutto concentrato in tre progetti chiaramente favorisce anche quello che è la filosofia originale dei PISU. Quindi diciamo qui è un'area effettivamente importante nella quale la strategia che è stata adottata è quella corretta. Altrove abbiamo assistito a una frammentazione di opere che sicuramente poi non aiutano sia per i processi diciamo burocratici e sia soprattutto per le finalità. Perché questi tre interventi sono anche attrattori di investimenti privati quindi diciamo nel futuro racchiudono un po' quella che era la filosofia originale dei PISU.